Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Veronica Peparini, la rinomata insegnante di danza e ex giudice di «Amici», ha condiviso la lieta notizia con il mondo insieme al suo compagno, Andreas Müller, in un'intervista mozzafiato su «Verissimo». La coppia ha raccontato con emozione la straordinaria esperienza della loro gravidanza. A causa della sua età, Veronica ha avuto bisogno di assistenza medica, ma entrambi hanno affrontato ogni sfida con determinazione. La notizia della gravidanza gemellare è stata inizialmente condivisa con la famiglia di Andreas, suscitando un mix di emozioni. Sorprendentemente, le reazioni positive della famiglia di Veronica hanno superato le aspettative, smentendo preoccupazioni e pettegolezzi. Nonostante le voci di una possibile crisi, Peparini e Müller hanno respinto tali speculazioni, sottolineando la solidità del loro legame, Andreas ha rivelato le sfide che hanno affrontato, ma ha chiaramente affermato che l'idea di separarsi non è mai stata considerata. La coppia, affrontando con coraggio questa nuova avventura genitoriale, ha manifestato grande entusiasmo per l'imminente arrivo delle due gemelle. E voi, sareste pronte a concepire un bimbo a 52 anni? Fatecelo sapere nei commenti.